Salve a tutti, sono Isabela Federico, un ex Googler che dopo tanti anni di felice carriera presso l'headquarter INIA a Dublino, dublinese della BKG, è entrata in Sud Italia, nel Salento della sua terra natale, dove esisce un'attività di web marketing specializzata sullo B2B. Io vi aspetto a Milano dove avrei il piacere di parlarvi di mobile ed in particolar modo di rete display da mobile, quindi come intercettare e raggiungere un audience che non ci sta praticamente cercando dal suo smartphone, ma che ci trova magari a navigare su contenuti mobile di suo interesse di vario tipo, ad esempio siti, app o anche video. Capiremo quindi quali sono le nuove tecniche di targeting disponibili, ma soprattutto nuovi formati di annunci sempre più adatti a mobile, perché sempre più responsive e sempre più interattivi. Infine avrò anche il piacere di darvi qualche suggerimento su come ottimizzare la promozione di una vostra eventuale app, quindi capire come raggiungere l'audience giusta attraverso gli annunci giusti che possano coinvolgere l'audience al meglio ed incoraggiarla quindi al download della vostra applicazione. Io vi aspetto a Milano, intanto vi saluto da una soleggiata lecce e vi ringrazio per l'attenzione. Ciao, grazie!